Ecco qua, in questa composizione praticamente abbiamo la sintesi di tutte le lavorazioni che faccio. Qui faccio, con questi faccio le campionature e quindi con quello che avanza diventa questo, con questa fettina che tolgo abbiamo queste strisce e le trottole quando si rompono durante la lavorazione anche loro, ahimè, finiscono, ahimè per modo di dire, in queste composizioni.